Seconda sconfitta consecutiva per l'Unitas Esciacca che esce sconfitto per 1-0 dal campo del Pro Favara. Rispetto alla sconfitta di domenica scorsa al Gurrera contro il Resuttana San Lorenzo di Carini, sicuramente i Nero Verdi hanno giocato meglio ed avevano chiuso infatti il primo tempo sullo 0-0. Nella ripresa però i favoresi hanno spinto di più e trovato la rete decisiva al 75esimo con Caternicchia. Le motivazioni hanno ovviamente inciso di più, con i padroni di casa in piena lotta per la zona playoff, mentre i sacensi ormai non hanno più nulla da chiedere a questo torneo, seppur hanno l'obbligo sicuramente di chiudere nel miglior modo possibile. Lo Schacca resta settimo con 38 punti in classifica. Nel girone A, capolista da solo rimane Lenna, che ha vinto in casa contro la Nissa ed è l'unica formazione del girone ancora ad essere imbattuta, mentre l'Akragas è rimasto bloccato sull'1-1 a Castellammare del Golfo, nell'anticipo del sabato, con pareggio subito nei minuti finali. Nel prossimo turno, l'unica si sciacca del presidente Gioacchino Settecasi è atteso dalla partita casalinga contro la Leon Fortese, squadra in zona playoff e in piena lotta per salvarsi. La squadra del tecnico Totò Brucculeri è chiamata a muovere la classifica e dare una risposta positiva ai tifosi che giungeranno allo stadio Gurrera.